buonasera siamo nel maestro antonio artese da tutti i colleghi ciao a tutti buonasera buongiorno anzi qui io sono a santa barbara sono in california sono nove ore indietro nel tempo e quindi adesso sono esattamente luna del pomeriggio ecco da voi e da voi a sera quindi santa barbara california si facciamo siamo venuti qui per un per un periodo che passare la vacanza è di natale e anche a gennaio rientriamo in italia il 19 un periodo abbastanza abbastanza lungo diciamo salutiamo dalila catenaro la nostra buonasera buonasera a tutti e soprattutto è un grande piacere per me partecipare a questa intervista con un maestro che conosco di fama ecco addirittura sì 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 solo di fama e non di persona spero che ci saranno occasioni noi aspettiamo sempre antonio a termoli uno dei due mondi possiamo dire così visto il nome del lavoro discografico two worlds se oggi andiamo a presentare sì no allora sicuramente il sì il mondo vabbè termoli tu lo sai emmanuele noi ci conosciamo da un pezzo insomma sai che sono sempre legato a la mia città d'origine e e quindi come si dice un più così c'è napoli un piazza e cora no e naturalmente è così i due mondi sono sicuramente anche questi cioè il fatto che che poi uno nasce si 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 forma in in italia poi fa delle esperienze naturalmente negli stati uniti altrove e questo è stato per me è stata una cosa importante e ho voluto testimoniare questa questa appartenenza a questi due mondi in fondo appartenenza a punto di vista culturale naturalmente con questo con quest'ultimo lavoro discografico però diciamo che i due mondi sono rappresentano un pochino la dualità che poi c'è dappertutto e c'è sia nel fatto della composizione dell'improvvisazione per esempio c'è nel fatto di di poter ecco perlomeno nella mia formazione c'è stata musica classica importante una formazione tradizionale molto rigorosa conservatorio poi la scoperta anche del jazz che sembrerebbe un genere abbastanza antitetico quindi ci sono tutti questi due mondi che si alternano e che sono in una forma di così di dualità e che poi alla fine si ricongiungono essere si ricompongono in un lavoro nella tua carriera hai attraversato sia contaminazione le esperienze con tanti ambienti ma anche appunto vari generi dove sta andando la musica mi fa la domanda da un milione di dollari questa cioè in che senso dove sta andando la musica in generale ma la musica secondo me ha un percorso suo è sempre viva e come diceva come diceva toscanini no cioè la musica vive di vita propria quindi certe volte sembrerebbe che non abbia bisogno neanche degli uomini cioè si autodetermina in un percorso e poi a diverse sfaccettature eccetera però devo dire che sì noi siamo figli del nostro tempo sempre e quindi la musica si si manifesta attraverso una creatività che passa poi nelle modalità che ci sono che ci sono che sono disponibili e che quindi lo vediamo adesso no tutti quanti e allora ti faccio un esempio sono qualche tempo fa in un viaggio precedente sono stato a a filadelfia a vedere una partita di basket è una partita di basket tu sai mio padre basche l'abbiamo sempre respirato a casa parla canestro importantissima io non ho mai dato seguito a queste cose però la seguo mi interessa mi piace e così la mamma di samantha abbiamo deciso di andare e vederci questa partita pre nba con la squadra di filadelfia cioè con i 76ers è esatto con i 76ers siamo andati lì e eccola abbiamo avuto un posto fantastico bellissimo si vedeva cioè al centro ed era una festa incredibile ma perché ti dico questo perché la musica rap che io ho ascoltato in quelle due ore e mezzo tre ore che siamo stati lì io non ho mai ascoltata da nessuna parte e ho capito e perché la utilizzano come la utilizzano e che che rapporto sciacco la comunità nera soprattutto di filadelfia ma in generale poi ho scoperto anche la nba con i lakers a los angeles e con i con i clippers e gli altri insomma c'è sempre questo impatto allora mi sono sempre chiesto no se dico ecco ho capito il contesto finalmente ho capito da dove da dove viene e dove va un certo tipo di musica cosa serve e quindi secondo me la musica oggi si sviluppa ci sono dei talenti incredibili bisogna soltanto scoprire ascoltare ecco la cosa che bisogna fare e che io raccomando a tutti i giovani vecchi bambini donne anziani e quello di ascoltare cioè mettersi in ascolto significa veramente prestare attenzione non lasciarsi distrae distrarre da altre cose ma prestare attenzione e quando si presta attenzione poi sia un enorme piacere perché poi la musica passa comunica cioè con questo non voglio dire che tutto sia fantastico non c'è anche c'è anche molto rumore però in generale questo è il mio approccio e andiamo verso una digitalizzazione estrema una liquidità della musica sicuramente però devo dire che tutte le volte che poi ci ritroviamo in uno spettacolo dal vivo in un posto dove si vede bene si sente bene e stiamo bene fisicamente in un ambiente del genere e la magia si si ripete e la nostra fruizione della musica è sicuramente ma in un gioco di numeri possiamo dire c'è worlds in un trio visto che questo lavoro discografico porta alla ribalta tra i musicisti chi sono i compagni di viaggio compagni di viaggio sono stefano battaglia contrabbasso alessandro marzi alla batteria e con alessandro abbiamo già fatto un altro disco è partecipato tante cose ci conosciamo ormai da una vita e con stefano invece è stata una collaborazione nuova doveva fare questo concerto che poi sono cancellato per via del covi da roma alla alexander platz agli inizi di gennaio e poi io sono negli stati uniti dove c'è un altro trio stranamente quello che io chiamo così west coast trio anche questo di compagni di di viaggio da tanti anni dagli anni 90 diciamo quando io ho frequentato appunto i corsi all'università qui per il dottorato e avevo jim connelly che questo contrabbassista e luis mugno se altre insomma della scena locale di santa barbara e di los angeles quindi avuto sempre l'opportunità di avere un altro trio da questa parte avevo fatto questo concerto il a febbraio poi sono rientrato in italia e abbiamo deciso di ho deciso di riprendere questi brani che erano il programma del concerto che era tutta roba nuova praticamente scritta brani originali siamo andati uno studio registrazione ad arezzola da francesco ponticelli abbiamo messo ecco abbiamo fermato abbiamo fatto questa fotografia di questo di questo trio dei brani insomma che che rappresentano appunto mettere un punto fermo secondo me la registrazione è mettere un punto fermo su un percorso creativo su una ricerca che si è fatta durante questi questi mesi anche diciamo adesso non voglio dirlo era della pandemia perché volente volente abbiamo scritto un po di più visto che non potevamo suonare e niente insomma quindi si è un trio e perché il trio perché secondo me un pianista jazz o classico eccetera che abbia voglia di portare avanti certe cose deve fare due lavori deve fare un lavoro che è quello di piano solo quindi del suo strumento quindi registrare una cosa quindi confrontarsi con il suo strumento direttamente e confrontarsi poi con una con una delle formazioni che sono classiche del del jazz quindi pianoforte contrabbasso e batteria e quindi senza elettronica anche se la tentazione devo confessare era forte forte perché i mezzi l'espansione sono sono fantastici anche questa musica elettronica applicata al jazz e l'improvvisazione però ecco io ho seguito un pochino l'ambiente molto classico mi sono ritrovato a confrontarmi con questo con questa formazione che ha naturalmente dei precedenti assoluto rilievo a livello di storia del jazz sto parlando del trio di di bill emants sto parlando del trio di kit jarrett del trio di amar jamal del trio di bram al dao insomma e chi più ne ha più ne metta per cui ecco confrontarsi con questi giganti è un'impresa però nello stesso tempo affascinante nel tuo piccolo se non gigante anche tu assolutamente un nano in questo senso valida allora torniamo facciamo un passo indietro perché ho ascoltato con molto interesse le domande che ti ha posto emanuele io sono un po diciamo attenta a certi dettagli hai parlato un po dei due mondi no e mi è venuta in mente una frase di oliver wendelons quando dice dove amiamo è casa i nostri piedi possono lasciarla ma non i nostri cuori allora mi viene in mente quanto tu hai portato in giro per il mondo del della nostra termoli della tua termoli non solo nel suo lavoro ma anche nei tuoi viaggi e le tue esperienze quanto c'è del nostro territorio con tempo ma allora noi siamo siamo quelli secondo me ognuno di noi è il prodotto di quello che è cioè del vissuto e quindi il mio vissuto è stato fino al fino ai 19 anni vent'anni e anche è anche un pochino più in là nonostante viaggi frequenti però vissuto a termoli cosa mi porto mi sono mi sono sempre portato dietro l'amore per il mare l'amore per per questa regione questa profondità di connessione con la gente e io devo dire che ecco una cosa che mi lega ancora molto a termoli sembrerebbe strano questo il dialetto cioè il dialetto che 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 in un millisecondo con una persona in una frase non deve essere una conversazione in una frase un'espressione in modo di dire automaticamente abbatte tutto e riesci a connetterti quel qualche giorno fa con nicola palladino ci noi ci sentiamo su facebook no allora gli ho detto detto sai ho fatto questo libro guarda Nicola dove lo posso trovare turo ponna ecco questo questa frase turo ponna c'è tutto cioè ti conserva quando vieni te lo do te lo te lo porto a casa questa questa cosa qua con un millisecondo è stato è stato cioè mi ha riportato indietro perché un'espressione che era un sacco di tempo che non sentivo questa è questa cosa e cosa porto io quindi mi porto termoli porto il mare nel cuore la gente i pescatori soprattutto insomma la mia famiglia la mia radice eccetera e mi porto anche questo questo mediterraneo no cui termoli appartiene questa parte diciamo levantina dell'atriatico il fatto dell'esplorazione del vento del maestrale questo sempre cose mi sopportate sempre tant'è vero che è il primo disco che ho che ho registrato che è stato nel 96 96 ed era si titolava italian sketches per la digital domain un etichetta indipendente di new york però registrato qui all'università a santa barbara lo studio interno all'università e erano italian sketches ed era molti di quei brani erano ispirati non agli schizzi così del paesaggio toscano delle alti delle altre cose di portofino eccetera no ma erano erano dei così delle delle cose sentivo direttamente dalla della terra poi c'è un discorso anche di dna cioè noi siamo siamo questi io sono termolese e ne sono fiero sono orgoglioso di esserlo e non ho nessun problema a dirlo ecco cioè io lo testimonio ogni ogni giorno c'è anche lo sfottò così del mulite non esiste questa roba qua eccetera secondo secondo me porto una testimonianza della mia terra delle mie delle persone degli amici con cui sono sempre rimasto in contatto non sono andato non sono stato il fuggitivo ecco torno spesso volentieri c'ho famiglia c'ho i contatti con gli amici però ecco questi sono questi elementi sono quelli che poi cerco di portare di ricordarmi e di far presente agli altri per esempio gente di busto arsizio o di varese dice ma di dove sei sono di milano in effetti milano sarebbe questa grande regione no io riconosco proprio di termoli e poi do le coordinate geografiche in modo che gli altri capiscono ecco non dico non dico questo a vicino roma patessa su a pescara però no mi è venuto da ridere quando hai citato nicola palladino perché quanto è piccolo il mondo quanto sono piccoli i due mondi perché nicola palladino riecheggiato in una conversazione che ho avuto con da qualche ieri credo l'altro ieri se non ricordo proprio perché si è creato si è creato un legame anche con lei infatti ci incontreremo neanche a farla apposta domani proprio per gli auguri di natale senti scusami voglio voglio chiederti un'altra cosa tu prima sempre rispondendo Emanuele hai parlato della tua esperienza a filadelfia quando si è trovato alla partita di basket no e mi ha colpito particolarmente quando hai parlato dell'importanza nell'ascoltare cosa che forse è sempre molto difficile per ciascuno di noi ascoltare e hai detto sai c'è tanto rumore però come si fa a scorgere in quel rumore la vera bellezza e quindi capire ciò che è giusto da ascoltare cosa non lo è perché non è che tutto da ascoltare questo è un tema un tema profondo nel senso che l'ascolto che non è soltanto l'ascolto musicale e poi si traduce anche l'ascolto delle persone nel saper stare zitti non avere questa reattività nel interrompere e poi manifestare la propria idea ma cercare di ascoltare significa mettersi sempre nei panni della persona che sta parlando e nelle intenzioni e quindi far depositare ascoltare veramente significa uno non giudicare quindi l'ascolto che è critico non è io adesso mi metto nella difensiva no l'ascolto è che io ho l'opportunità di fare entrare il messaggio che sta arrivando e poi dopo che io l'ho sentito l'ho ascoltato l'ho meditato l'ho assorbito l'ho rielaborato allora posso dire qualcosa se abbiamo questo quindi è uno status mentale di accettazione psicologico di accettazione che non tutti hanno quindi il rumore in effetti non fa altro che 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 innalzare le nostre barriere e in questo momento il rumore è una delle delle cause per cui poi alla fine non riusciamo a riconoscere il messaggio vero da quello finto questo capita nel giornalismo capita nelle fake news non capita ogni giorno dove la verità i fatti c'è questo discorso la verità che come si dice qui in inglese no the truth è la verità diverse dal truism che è il vero simile diciamo e quindi questa è una cosa importante secondo me ecco bisogna stapparsi le orecchie e togliersi il prosciutto che significa anche il pregiudizio e rilassarsi e avere dedicare del tempo poco ma tempo in cui c'è attenzione a quello che che uno sta ascoltando poi può fare quello poi poi può anche dire no questa cosa non mi interessa ma scopriremo molto che nei momenti in cui togliamo queste difese queste barriere che molto spesso costruiamo noi per uno per un meccanismo appunto di difesa scopriamo che poi in effetti sono le cose di una bellezza incredibile in tutto perché la musica vera è mossa non da fare i soldi dall'affermarsi dall'essere narcisisti dal volere una carriera è fatta perché uno ha necessità di comunicare si trova bene a scrivere e a dire la sua e questa verità alla fine è quella che passa poi in effetti passa anche con rumore come passava con rumore la grande arte di 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 che ne so di fur vengler con i dischi dei 78 giri della victrola cioè che che tecnicamente non sono assolutamente paragonabili con l'ipod che che sentiamo noi no solo sentiamo noi però c'è qualcosa che che ci afferra i dischi certi toscanini anche per la rca le vecchie edizioni del 49 50 sappiamo quali sono qual è il valore di queste cose al di là del del rumore del mezzo tecnico ma questa questa opportunità di a di mettersi in ascolto che ci vuole molta pazienza ci vuole molto tempo ci vuole molta energia ci vuole un lavoro di non liquidare le cose per scoprire capire effettivamente poi ci sono cose meno belle più belle quelle che ci sono più vicine noi però ecco la possibilità di ecco io quando sono andato in linea filaterfia campo di al questo palazzo palazzetto una cosa enorme con i ristoranti di ecco lì è uno spettacolo portato all'ennesima potenza dove il campo di basket è il centro di attenzione di un mondo di un universo che gira io ho visto i bambini e le famiglie con i pop corne con le cose mangiavano i panini questi che portavano le cose tutti in un'atmosfera incredibile questo questa musica quasi assordante con questi schermi enormi all'interno e per pacco ma questa cosa fenomenale ho mai visto una cosa del genere e ecco lì io non ho giudicato se capito se c'era chi era l'ultimo dei dei repisti e della cosa però mi ha con certe cose mi hanno colpito molto perché sono sono passate ed è non è il mio genere il mio genere non è che ascolto rap tutti i giorni sto lì a e invece ho scoperto le cose fondamentali interessanti e per bacco è incredibile bisogna essere esposti per l'opportunità di di farlo questo ascolto nelle parole con cui hai proposto anche a noi attraverso il tuo ufficio stampa il lavoro discografico che vols fa riferimento particolare a una data palindroma che significato ha avuto per sé questo 22 febbraio 2022 ma era era la data innanzitutto era la concerto qui a santa barbara e che la mia amica john rukowski mi ha aiutato a produrre e abbiamo fatto in un teatro prestigioso che era il teatro dell'obero è un teatro storico teatro storico che fra le altre cose festeggiava il 149esimo anniversario della nascita quindi un teatro che una seconda metà dell'ottocento a santa barbara fondato da giuseppe lobero un italiano di genova tanto per per dirne una e e la data guarda caso era era questa c'è era dato questo martedì a disposizione noi ci siamo tenuti fuori dal dal weekend proprio per dare la possibilità agli altri di di venire al concerto la sera il l'obero è un teatro dove c'è un c'è una rassegna jazz prestigiosa io ho visto herbie hankock ho visto chicoria ho visto peter erskine ho visto il trio delle cose fenomenali mi è sempre piaciuto è un posto abbastanza intimo nel senso che ha 600 posti non è grandissimo e quella data era disponibile il teatro proprio il 22 febbraio del 2022 e allora ho visto che questa proprio in questa cosa mi sono reso conto che come la si metteva si metteva 22 per sapere in america c'è il mese di solito viene prima del giorno che si dice febbraio 22 2022 però ecco 02 22 2022 come la si girava la parte era palindroa quindi si poteva leggere da una parte o dall'altra ed erano tutti questi due e qualche zero poi ho scoperto che capita una volta non so 300 anni 250 non so è una cosa abbastanza rara e ho detto per bacco questo è un segno interessante e così abbiamo abbiamo fissato la data con ampio anticipo ho cominciato la vendita dei biglietti che è andata benissimo fra le altre cose e mi sono accorto anche ecco che il pubblico lì che ha partecipato al concerto aspettava in un certo senso di capire di vedere un po meglio questa 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 dualità del mondo della musica classica del jazz sono venuti persone è venuto il direttore dell'orchestra nir cabaretti sono arrivati gli amici dall'università sono ho rivisto un po di persone e lì è nata è nata è nato proprio il programma che poi ho trasmesso in parte non tutto perché i brani erano di più nel disco quindi sono sette tracce originali più due più due arrangiamenti in questo quest'ultimo disco c'è proprio il brano pucciniano un bel di vedremo che un po è proprio il tramite perché ho preso un tema che è super classico della butterfly e l'ho trasformato in questa ballad per il nostro trio ecco un'altra caratteristica che mi ha molto colpito l'ho immaginato come un lavoro su musica su assi cartesiani perché ci sono i mondi poi ci sono i generi i mood e colorazioni che vanno dal nord europa fino alle incursioni mediterranee si è un po complesso diciamo che come dico sempre noi la stratificazione c'è ogni ogni album se si è fatto in maniera così pensata bene ecco non c'è l'impulso registrarlo è stato abbastanza rapido ci siamo ritrovati abbiamo fatto questa come si dice a termini cotta e mangiata in questo senso però in effetti l'album è stato digerito metabolizzato pensato riguardato anche gli arrangiamenti tutte queste cose quindi sì c'è 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 tutto quindi la stratificazione si sente si sente secondo me il fascino che ho avuto dai miei viaggi in nord europa che che mi hanno accompagnato sempre con questo minimalismo questa cosa questo ist il trio che che mi ha influenzato molto ma come influenzato un pochino tutti in generale ma anche appunto delle sonorità più mediterranei che ci appartengono con dei ritmi che possono essere anche così si si rifanno anche a un po di latin latin music mi interessa mi piace sempre un po citare no perché dice ah guarda mi sembra una cosa così e infatti è così e devo dire che i miei compagni di viaggio hanno acchiappato subito questa questa atmosfera questa aria che tirava e l'hanno messa per esempio il primo brano proprio tu rolls il primo solo di contrabbasso anche questo lasciare spazio gli altri secondo me era è una cosa molto 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 importante e poi vuole questa questa stratificazione questi assi cartesiani che tu citavi si riscontrano sempre ecco guai a fare le cose un po piatte sempre e poi un disco deve essere vario deve avere dei momenti appunto più angolari più più di ricerca un pochino più melodici un po più fruibili se vogliamo e però devo dire che queste prime il disco uscito il 9 dicembre questi 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 primi giorni i feedback sono stati molto positivi e gente si è avvicinata ascoltato con con piacere poi sai la dimensione all'ascolto mi è iscritto questo mio amico se brian a sto preparando i cocktail a fantastico bene allora vuol dire è un po ascolta la musica anche quando prepari i cocktail e va bene così escono corti ritmati senti ma quanto è stato difficile mettere d'accordo te e i tuoi compagni di viaggio nella creazione di questa nuova opera cioè siete riusciti tre professionisti a non avere mai nessun litigio durante la preparazione di questa nuova creatura no perché li comandavo io e quindi allora c'è sempre c'è sempre la persona che comanda ma allora diciamo che c'è un contratto non scritto innanzitutto i musicisti in america non li chiamano i cats i gatti perché i gatti c'è non vanno non è come il cane che i gatti di solito non stanno insieme non giocherellano troppo no non hanno questa vita sociale molto molto sì spiccata come per altri animali i gatti sono sono così e naturalmente quando scegli musicisti quando ti ritrovi con i musicisti lo fai prima e quando fai le prove e quando presenti i brani e poi cerco sempre di spiegare di dare tutta una serie di elementi al collega in modo che che lui entri nel mood si parla questo è un lavoro bellissimo questa parte diciamo del dell'esplorazione del talento altrui mettendo a disposizione i propri brani discutendo cosa faresti questa cosa qui ecco sono sempre molto aperto impermeabile in questo senso non è che io no si fa così questa cosa no lascia sempre molto spazio alla creatività degli altri anche dicendo se per le volte che non va qualcosa non funziona non funziona ecco gli guarda secondo me questa cosa non funziona così è così quindi diciamo che nel momento in cui si va in sala di registrazione c'è un fenomeno di affinamento di scelta dei musicisti ti piace il modo in cui loro suonano per cui quando arrivi sì poi qualche volta qualche qualche non dico discussioni ma qualche altra cosa i punti di vista vanno rispettati ma devo dire in questo senso è andato tutto molto liceo e devo ringraziare francesco ponticelli dello studio il cicaletto di arezzo perché e lui è uno che ha facilitato che il lavoro della di registrazione è un'arma secondo me a doppio taglio c'ha già un sacco di problemi uno si ha a che fare con il tempo il tempo e bisogna ottimizzare il tempo nel senso che se si perde tempo nel provare nel fare o non essere preparati alla fine c'è meno possibilità di registrare non bisogna stancarsi perché se uno comincia si è poi arriva agli ultimi pezzi sono bisogna quindi conservare delle energie e bisogna sapersi dosare durante durante la registrazione perché anche uno c'è una settimana di tempo va lì capito sta in vacanza sulla piscina e no e quindi diciamo ci sono dei meccanismi abbastanza precisi da rispettare per far sì che poi le cose funzioni e in questo senso devo dire che tutti tutti quanti avevamo un'esperienza notevole della registrazione perché abbiamo fatto tesoro di questa di questa cosa una cosa che abbiamo fatto è anche il motivo per cui abbiamo scelto questo studio non solo perché c'è un pianoforte bellissimo che era importante al centro non verrà uno strumento uno stengue modello di fantastico però era anche un po isolato dalla città e in campagna e questo aiuta siamo arrivati la sera prima ci sono delle stanze abbiamo potuto riposarci quindi la mattina abbiamo preso un bel cappuccino e ha finalmente siamo entrati in studio registrazione con il mood giusto sarebbe stato molto probabilmente diverso se uno fosse arrivato di corsa da una parte dopo tre ore di viaggio da Roma un altro da di là stancati alla fine insomma questo anche ecco questa attenzione che abbiamo avuto nei confronti di chi doveva registrare delle energie queste importante mettersi in una condizione ideale ecco di poter poter lavorare anche in queste scelte si ravvisa la piena maturità compositiva e consapevolezza stilistica che contraddistinguono two worlds ma queste queste sono le parole di di stefano denti che io ringrazio perché sta facendo un ottimo lavoro come come ufficio stampa indipendente mi da una mano a promuovere il disco l'artista ha sempre bisogno una persona al suo fianco che faccia un lavoro anche di cronistoria no di di offerte e maturità stilistica vabbè maturità c'è uno può essere maturo a vent'anni e come come era john coltrain e può essere immaturo a 90 e quindi fa parte della personalità però io penso che ne ho visti un po di tutti i colori quindi poi alla fine ecco anche lì quando quando si arriva a scrivere a comporre in una certa maniera diventa sempre molto più si mettono le cose più a fuoco sarà che l'età ti permette di vedere attraverso il fumo le cose fumose a cominciare a setacciare un po di più e arrivare al punto essere molto più sintetici e molto più precisi questo naturalmente aiuta maturità stilistica beh non lo so io penso di quello quello che cerco sempre di fare di un rimane sempre un tentativo è la il cercare la propria voce ecco che poi cambia durante durante l'età per essere sinceri e scrivere le cose che che uno vuole dire essere coerenti con quello che fa e che dice musicalmente noi senti prima volevo farti una domanda poi emanuele che mi ha diciamo mi ha battuto sul tempo e senti tu hai parlato bene ovviamente di due compagni di viaggio ma mi è venuta in mente una cosa il lavoro di squadra fatto in una determinata maniera cioè con costanza con attenzione carnage andrew carnage avrebbe detto che era il carburante per far sì che le persone raggiunge persone comuni raggiungessero obiettivi non comuni cioè obiettivi per pochi quanto il lavoro di squadra influisce su tutto questo sui risultati che uno raccoglie come ad esempio questo ultimo questo ultimo lavoro ma secondo me è essenziale ormai impensabile poter fare da soli cioè io non ho mai pensato o meglio quando ero più giovane forse nella mia presunzione giovanile e pensavo appunto di poter raggiungere dei risultati da soli ma noi in effetti uno siamo degli animali gregari in generale due se vogliamo ottimizzare le risorse bisogna affidarsi agli altri al talento degli altri riconoscerlo e delegare questo fa parte del discorso del manager in generale adesso sembra che sia un corso di management ma no è importantissimo il lavoro di squadra è fondamentale fondamentale e sia da un punto di vista creativo che da un punto di vista organizzativo e dei risultati poi in termini di che ne so i risultati a cui noi ambiamo naturalmente sono i concerti far sì che il disco circoli che uno riconosca un pochino quello che non ha fatto lo ascolti eccetera e però a un punto di vista artistico ecco voglio soltanto dirvi questo che quando scott la faro per il contrabassista di bill evans è il primo disco dei primi tempi di fila quindi gli anni sessanta metà degli anni sessanta scotto la faro lui aveva vent'anni e ventenne un contrabassista incredibile c'è il trio di bill evans è cambiato completamente dalla presenza di questo di questo ragazzo appunto anche lui di origine italiane a new york quella in quella quel periodo se ogni oggi se non erro adesso dico una stupidaggine e beh lui scotto la faro muore in un incidente stradale con la macchina e bill evans è devastato devastato da questa da questa cosa attraverso un periodo di di forte depressione e chi non lo avrebbe avuto ecco quindi questo ci testimonia che non era soltanto un discorso di effetto nei confronti una persona ma nello stile nella cifra stilistica di bill evans dobbiamo aspettare un po di tempo prima di ritrovare questo questo equilibrio del trio della di questa squadra no di questo team da un punto di vista creativo quindi la risposta è uno estremamente fortunato quando riesce a lavorare e poi c'è un discorso proprio di sviluppo cioè di affinamento man mano che si lavora insieme sempre per fare un discorso così del basket per tornare alla balla canessa e l'altro giorno stavo guardando questa partita dei proprio dei clippers contro mi ricordo che cosa contro la north carolina se non erro era a certo punto mi ha colpito come e nell'attacco loro avevano già sono andati sotto di 14 punti questo risultato fino hanno vinto a los angeles e questi stava questo qui che da tre punti vedi questi passaggi velocissimi da una parte dall'altra e questa persona è sempre puntuale nell'area al lato come ala e ti mette dentro il triccio la cosa da tre punti e siccome è capitato due tre quattro cinque dieci volte ha detto io questi questi lavorano ad occhi chiusi sanno esattamente dove stanno le persone perché è impossibile se seguire sapere su comunque i ritmi questi sono arrivati a 120 siamo punteggi 130 136 c'è delle cose astronomi di marzano dei marziani questi è pazzesco però sanno questo lavoro di squadra affinamento di sapere dove sta il compagno di poterci fare affidamento è incredibile nessuno pure 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 lebron james che mi sta molto simpatico da solo non potrebbe fare quello che fa infatti con i lakers non ha fatto moltissimo però le due partite sono state tostizie è un grande contenderà mai il giorno alla palma di più grande cestista di tutti i tempi insomma ci avviamo la conclusione di questa bellissima intervista conversazione con l'amico antonio artese con dali catenaro siamo sui 40 minuti quindi molto di più di quello che avevo preventivato ma d'altronde era naturale che si sarebbero sviluppati tanti elementi di interesse noi ti ringraziamo chiaramente ti facciamo gli auguri per natale per l'anno nuovo e vorremmo che tu rivolgessi alla tua termoli gli auguri natale di buon anno bene io faccio gli auguri a tutti dico buone feste di natale di un buon anno con con un inizio così bello e toccante per tutti e quindi riguri buone feste a tutti da passare con le famiglie con i cari con con gli amici posto bellissimo andate la sera di cabello che anche il 31 ci sarà questa festa in piazza il comune ammesso mi raccomando uscite e approfittate restate fuori perché la cosa bellissima state insieme in questo clima festivo che che è importante così celebrare e insomma spero che che ascolterete il disco questa è una cosa importante su spotify su itunes tutti su tutti i media e ci lasciamo con un augurio di poterci rivedere presto perché sto programmando appunto la presentazione del disco con un concerto dal vivo a termoli insomma fra fra poco ecco e noi ci aspettiamo per godere di questa nuova opera discografica invitiamo davvero i nostri lettori a scoprire i two worlds di antonio artese e del suo trio buona serata grazie grazie ciao grazie